Come è la tecnologia digitale? In questo momento il 21% della crescita dell'economia del G20 deriva dalle tecnologie e dal digitale. Cito un caso emblematico e strutturalmente abbastanza drammatico del nostro paese. Noi abbiamo oggi un gap di produttività, dei nostri fattori produttivi nei confronti della media europea di circa il 26-27%. Sulla base degli studi e delle ricerche che vediamo circa metà di questo gap, quindi il 50% di questo gap potrebbe essere colmato con la tecnologia e con un maggiore ricorso a tutto ciò che è IT, tecnologia e digitale.